Diciamo che le elezioni hanno dato un esito negativo da un punto di vista complessivo per la nostra coalizione. Da un punto di vista di lista, sostanzialmente si è confermata rispetto al voto delle elezioni europee. È un peccato che non siamo riusciti ad eleggere un secondo consigliere per poche percentuali legate al premio di maggioranza da parte del centro-sinistra. Da un punto di vista personale, invece, sono contento del risultato che conferma una stima da parte di tanti cittadini nei miei confronti che hanno espresso la loro preferenza. Questo mi fa davvero molto piacere e mi dà uno stimolo a continuare a lavorare nel Consiglio Comunale allo stesso modo e anche con maggiore intensità rispetto al passato. Anche perché nel suo caso si parla del quarto Consiglio Comunale, quindi 20 anni di politica amministrativa a Pesaro. Sì, il mio percorso inizia nel lontano 2004, quando sono stato eletto per la prima volta in Consiglio di quartiere, nella circoscrizione, allora si chiamavano così, e dal 2009 sono in Consiglio Comunale. Un'esperienza davvero significativa, molto bella. Questo è il terzo sindaco al quale mi ritroverò a fare opposizione e la faremo ancora in maniera più intensa rispetto al passato, convinti anche che questa volta ci siano degli elementi molto significativi sui quali fare una forte opposizione. Ci fa un esempio? Noi riteniamo che questa coalizione sia stata costruita non su una base programmatica, ma su una spartizione fatta a priori da parte dei ruoli di potere. Una coalizione che si è impersonificata in assessori che togliendo il terzo mandato, il limite del terzo mandato, oggi continueranno a fare gli assessori, creando dei veri e propri centri di potere, davanti ai quali noi opporremo non solo un'opposizione da un punto di vista formale, ma proprio anche un'impostazione di metodo, perché riteniamo che sia un qualcosa di sbagliato ai fini della democrazia, ai fini dell'interesse cittadino. Io voglio ringraziare Marco Lanzi per il grande lavoro che ha fatto, per l'entusiasmo che ci ha messo e per il fatto che è riuscito a catalizzare più del 35% dei voti dei cittadini pesaresi, che non è mai un fatto banale. La sconfitta è frutto anche probabilmente del ritardo con il quale abbiamo designato Marco come nostro candidato a sindaco, che ha avuto poco tempo per far conoscere le sue qualità umane e il suo progetto politico. Allo stesso tempo, dall'altra parte, abbiamo avuto una unità di una coalizione dove hanno messo tutto il contrario di tutto. Assessori che litigavano fra loro, assessori che hanno una visione diversa da parte di alcuni problemi della città, di conseguenza era anche molto difficile scontrarsi e ora tutte queste difficoltà sono in capo al nuovo sindaco Andrea Biancani, che si troverà una grande difficoltà a mettere insieme visioni diverse della città, unita solamente per una divisione di potere.